Sai, Ilker, che in realtà vorrei stare sempre con lei. Ah. Sai, anche ora vorrei essere lì vicino a lei. Mi manca davvero tanto. Sei ma... Sapevo che l'avresti detto. E allora le madri vedono lungo. Sei il mio amore. Indovinato. Questi non sono i miei modelli. Ricordi bene i modelli. Sapresti ridisegnarli? Sì, certo, ma non risalvo niente se loro non li cuciano. Sì, beh, mi hanno detto che lo faranno, ok? Cinque. Allora, parto da qua. Il tuo piano è riuscito, hai messo Oiku davvero nei guai. Mi auguro che tu non sarai mai mia nemica. A... Aiaz? Ma che... Quelle non sono le mie modelle. Oggi non andrò allo studio. Andiamo ad aiutare Oiku per la sfilata. E perché? Lei è una nostra amica, Sei ma... La sfilata è importante per lei. Dobbiamo aiutarla, no? Le modelle migliori sono tutte già impegnate, purtroppo. Come se non lo sapessi, Sei ma... Come se non lo sapessi. Ma forse... Sai, io ho un'idea, ce l'avrei. Però ho paura che potrebbe non piacerti. Potresti ingelosirti. Segui la tua immaginazione. Se non piacerà a nessuno, piacerà a te. Non farti influenzare. Chi è quello? Non lo so. Cancellerete il numero di Ayasa dal vostro telefono, è vero? Ah, non le ho fregate. Una gamba rotta. E Miran. Grazie. 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 Grazie.